Nuovo anno, nuova corsa, bentornati su Breaking Italy, l'argomento più discusso di oggi, prevedibilmente, attiene al mondo dei vaccini. Ora, durante le vacanze tra dolci, torrone e digestivi vari, abbiamo appreso che il numero di morti per meningite in Italia è in aumento ed è un problema. Perché se è vero che di meningite si muore, è anche vero che molte morti sono prevenibili grazie ai vaccini. Problema, la gente smette di vedere concretamente le ragioni che portano la società a sottoporre i cittadini alle vaccinazioni di massa. Tipo, oh guarda, mio figlio ha la poliomielite e ora crescerà per sempre con enormi difficoltà motorie. Magari il prossimo lo faccio vaccinare e smette quindi di preoccuparsene per far vivere la prole come nei buoni e vecchi tempi andati. Ah, avete presente, no? Quando la natura benevola si mostrava in tutta la sua bellezza. Durante le esplosioni di peste, ad esempio, o quando dire mio marito alla febbre era praticamente l'alternativa di rendersi disponibile come single sulla piazza. Bei tempi, make me this thing great again. C'è sto tizio molto seguito su Facebook che si chiama Roberto Burioni, è un medico, docente di virologia ed esperto immunologo, che vi consiglio di seguire se interessati perché fa parte di quel ricco sottobosco che potremmo definire di diffusione scientifica in Italia, specie sul web. Burioni ha recentemente scritto sulla sua pagina dell'allarme meningite in Italia, appunto sbufalando delle voci che circolano grazie anche all'impegno dei neofascisti di forza nuova che sosterrebbero che siano gli immigrati a portare la meningite, cosa non vera. Che poi, se ci pensate, è fantastico che in certi ambienti alternativi del web, a giorni alterni, si predichi la dottrina dei che i vaccini sono tutti una cospirazione delle lobby e quella degli immigrati che portano malattie che si possono prevenire con gli stessi vaccini. Ma vabbè, vabbè. Il punto è questo, una lamentera nella quale il dottore, scazzato dai continui buh vergogna, ha sparato fuori il classico, sto parafrasando, non caccate il cazzo, questo non è un luogo di discussione se non siete degli esperti immunologi come me, e soprattutto la scienza non è democratica, che è vero, detto genericamente, io lo ripeto spesso, la scienza non è democratica, i fatti non sono opinioni e che il dottore appaia simpatico o antipatico o pieno di sé o un eroe, come lo hanno definito in tanti, è abbastanza ininfluente, sino a un certo punto perlomeno. C'è un problema, infatti, ed è quello del significato di democrazia. Non mi riferisco soltanto alle questioni medico-scientifiche. in tutti i campi, e lo vediamo in questi anni, nei quali le democrazie sono in difficoltà, o perlomeno appaiono in difficoltà, e si fanno strada quindi in movimenti diversi, meno democratici, ma che pretendono di essere trattati come gli altri, nel nome della democrazia stessa, che loro non rispettano, perché dopo tutto in democrazia si può dire qualsiasi cosa, giusto? È la mia opinione, dopo tutto, corretto? No, non è corretto, ti butto in un fosso e ti danneggio la famiglia, sottoponendola a ore di visione forzata di cinepanettoni, che tanto quest'anno ne sono usciti tipo 37 tutti assieme. Fatto è diverso da opinione, benissimo. Ma come lo spieghi questo in un mondo che è sempre meno interessato ai fatti e alla sostanza, è più interessato a come le cose vengono presentate o percepite, o al perché vengono presentate in un certo modo, probabilmente attraverso un processo di mediazione che è quello che è la divulgazione scientifica, quello che i divulgatori cercano di fare, prendere la scienza, che è una roba che appartiene a tutta l'umanità, non solo agli scienziati, e spiegarla, darla alle persone che poi potranno utilizzarla per qualcosa, dal non morire di meningite magari, al far passare leggi che impediscano ad altri di morire di meningite, a trovare dei modi, con il loro lavoro, il loro ingegno, per finanziare ulteriore ricerca e fare in modo che anche altre malattie o patologie diventino curabili o si trovino perlomeno dei vaccini. È tutto collegato. E il modo migliore di farlo, credo, non sia quello di dire io so io e voi non siete un cazzo, anche se di nuovo non sai niente di medicina. Parli di medicina? Mi costringe a fare questa faccia qui. Una delle ragioni per le quali le persone, la società o parti di essa cercano di allontanarsi dalle elite e dalle classi dirigenti, negli ultimi tempi vedete il fenomeno Trump, vedete il Brexit, vedete i 5 stelle, vedete il non voto che è ormai dato per assodato come principale partito del paese e nessuno si stupisce più, è perché quelle elite sembrano o non avere risposte o essere lontane sulla loro torre di vetro, completamente incapaci di occuparsi dei problemi delle persone. È la verità, non la fantasia. È come moltissimi si sentono in questo momento, forse la maggioranza. E quando succede questo, viene a mancare un rapporto basilare, che è la fiducia. Manca quello? Manca tutto. Dovremmo smetterla, i leader dovrebbero smettere, soprattutto di considerare le persone come masse ignoranti da indottrinare e approcciarsi loro trattandole per quello che sono, ovvero altri esseri umani che quindi, quando dici loro una cosa, reagiscono in base a una serie di fattori, beh, di un culturale, di certo, ma anche scala di valori personali, ideologie abbracciate o educazione o vissuto personale, religione, carattere, mille altre cose. Una delle ragioni per le quali si dice che viviamo in un mondo governato da ignoranti e che si ha la pretesa che tutti rimangano con la bocca aperta ad ascoltare lo scienziato che dice dove andare e che poi tutti vadano in quella direzione. Ma guarda un po', sta cosa non succede, perché gli esseri umani non funzionano così. Se fosse così, non esisterebbe la politica. Prenderemmo gli individui più brillanti, più capaci, dopo averli sottoposti a un test, e seguiremmo ciecamente i loro ordini, come formiche o come lemmings. Quindi, la scienza non è democratica, giusto. E se siete di quelli che quando non sanno una cosa dicono non sono abbastanza informato, mi astengo dal dire minchiate, è probabile nutra simpatia nei vostri confronti, però o rimaniamo in questo masturbarci vicendevolmente in cerchio tra persone che si dicono bravissimo, bravissimo, quando leggono di un medico che giustamente sbotta e dice oh, ma cosa ne sapete voi di medicina? Oppure facciamo un passo più in là, ci armiamo di pazienza e cerchiamo di capire come mai tante persone non si fidino più degli esperti in ogni campo, che è un problema, ottenendo come risultato il fatto che non facciano vaccina di figli. Nei casi più soft, o si curino il cancro con il bicarbonato, si elevino a tuttologi, e si lancino tra le braccia dei peggiori dittatori nei casi più gravi. O vogliamo rimanere come quelli che continuano a dire che è impossibile che Donald Trump abbia vinto le elezioni e a dare la colpa ai social, e a dire che tutti sono razzisti e sessisti e malati di mente, mentre il mondo va avanti? Dai, reagiamo, diamoci una svegliata, usciamo dalla bolla, facciamo qualcosa. Lo dico a tutti, dalle classi dirigenti, scienziati, medici, politici, ricercatori, alle parti più deprecabili, gli youtubers, ad esempio, o i veneti. Amici veneti, mi siete mancati durante queste vacanze, ma non mi avete mandato del progecco, quindi vaffanculo. A parte la tatuatrice veneta che ho seguito ieri sera a caso su Instagram, scoprendo poi essere parte della gentaglia. È un piccolo piccolo mondo. Altre cose interessanti di oggi, comunque, a Conetta, che si trova appunto in provincia di Venezia, è tutto collegato, sono un professionista, c'è stata una rivolta di migranti in un centro d'accoglienza, che è uno di quei posti dove le persone vengono messe in attesa di capire se possono rimanere o se devono o dovrebbero tornare a casa. La rivolta si è declinata nel rapire per un paio d'oro i lavoratori della cooperativa che gestisce il centro, in passato accusati di fornire scarsi standard abitativi agli ospiti del centro, poi sono arrivati i carabinieri e tutto risolto, con le virgolette, nel senso che tutto è iniziato per la morte di una donna 25enne avvenuta per ragioni sconosciute e che alcuni degli ospiti hanno probabilmente attribuito alle ipotetiche e scarse condizioni del centro delle quali si parli in alcuni giornali. Non lo sapremo sinché non sarà stata effettuata l'autopsia, quindi tante. Una cosa interessante è che in questi giorni si è parlato del potenziamento del sistema di accoglienza a causa di una lettera fatta circolare dal capo della polizia, eccolo qui, Gabrielli, che è in vita a un nuovo approccio nei confronti del sistema di recezione e di espulsione. Uno di questi effetti lo si dovrebbe ottenere aprendo nuovi centri di identificazione ed espulsione, ovvero le strutture preposte, ottenendo in teoria in pochi mesi di averne attivo uno in ogni regione, il che significa che ritorneremo a parlare di sta roba quando il solito gruppo di cittadini dirà giusto bene, benissimo, ma non a casa mia e farà le barricate in strada. Attualmente i migranti vengono accolti nei centri e dentro tre mesi si deve decidere cosa fare di loro. Li tieni, li rispedisci, ne fai Soylent Green, qualcosa perlomeno. Uno dei punti frizzanti però sono i numeri. Attualmente i pochi centri distribuiti nel paese possono ospitare un massimo di 668 posti, che è un po' pochino, contando che poi il sistema funziona malino e quindi i rimpatri vengono spesso effettuati in ritardo o non effettuati. Molti paesi europei sbuffano quando poi devono prendersi la loro parte di profughi perché parliamo di profughi di guerra, ovviamente, gli irregolari non dovrebbero essere ospitati e soprattutto capita ancora che nei centri di queste persone stiano ben più di tre mesi a quanto pare. Oggi si parla anche molto del Movimento 5 Stelle e del fatto che Grillo dal suo blog abbia imposto dei nuovi diktat sul comportamento degli iscritti al suo partito tramite un nuovo codice di condotta, facendo esattamente quello che avevo detto avrebbe fatto e che chiunque avesse un minimo di interesse per le vicende politiche oltre il tifo aveva detto perché è ovvio. Con il nuovo regolamento si passa quindi da quando ricevi l'avviso di garanzia sei vecchia politica sporca e collusa e devi dimetterti ricordo ancora Di Maio che affermava che Alfano dovesse dimettersi per un avviso di garanzia da qui il famoso hashtag Alfano dimettiti all'attuale quando ricevi l'avviso di garanzia puoi rimanere dove sei a meno che non voglia dimetterti tu o il direttorio o Beppe Grillo in persona non ti dimettano ugualmente decide Grillo insomma perché succede sta roba? è facile perché l'avviso di garanzia è un semplice o guarda che c'è un'indagine e devi difenderti in tribunale ed è impensabile che un partito sia decimato dagli avvisi di garanzia significherebbe che a comandare è la magistratura e sinché sei all'opposizione puoi ancora dirla questa cosa qui perché noi siamo più puri siamo più belli gli altri sono monelli quando passi al governo la musica cambia completamente e devi fare retrofront è ovvio è prevedibile ed è anche ipocrita ma la coerenza è raramente una virtù in politica in ultimo di Canio ve lo ricordate? ex calciatore ora ex presentatore incendiato da Sky dopo che è saltato fuori nel braccio avesse un tatuaggio con scritto Dux e allora daie di polemiche anche se di Canio ha sempre reso noto sul campo e non le sue simpatie politiche in questo caso nei confronti del buon vecchio amichevole dittatore di quartiere Benito c'è un casino oggi proprio perché di Canio ha rilasciato un'intervista a qualche mese dal licenziamento dicendo fondamentalmente di essersi pentito sia dei tatuaggi che inneggiano al fascismo sia dei famosi saluti romani sotto la curva che già al tempo destrava uno scandalo in pratica l'ex calciatore ha derubricato queste cose a errori di gioventù affermando che mischiare la sua vita professionale al suo credo politico sia stato sbagliato ora a voler pensare bene di Canio ha riflettuto sulla questione con il senno di poi e in effetti ha ammorbidito le sue posizioni senza però ritrattarle quindi il classico Mussolini ha fatto anche cose buone ma poi ha seguito Hitler e ha fatto le leggi razziali e ha rovinato tutto ora questa cosa è sbagliata a livello storico e revisionismo lo sappiamo ce lo siamo già detti mila volte e indubbiamente qualsiasi governo fa anche cose buone discorso stravecchio ma a voler pensare male questa sorta di ammorbidimento arriva a seguito di un'occasione lavorativa perduta oltre che a suo dire a una profonda delusione personale quindi come si decide se questo riflettere sugli errori del passato di nuovo non entriamo nel merito siano sinceri o no con la fiducia è tutto lì dipende da quanto chi ascolta l'ex campione si fidi di lui e punto e questo è tutto per oggi grazie per aver guardato si riprende a pubblicare i video tutti i giorni dal lunedì al giovedì e poi il venerdì con la puntata speciale oggi a dirla tutta è stato anche identificato l'autore della strage di Capodanno in Turchia ma sto decidendo se mostrare il volto oppure no quando ne parleremo domani ipotizzo dopo tutto è quello che un terrorista vuole no? essere visto e nel mio piccolo non so se voglio contribuire più a questa cosa non lo so ci sto pensando fate i bravi comunque ci rivediamo domani alle 18 non so se voglio